Bella vecchi drago di Temigranas e siamo tornati con un nuovo episodio qui dei tornei che ormai è diventata una serie Anche se non voluta No infatti però Ed oggi siamo con la nostra rosa grandissima Rosa Spagnola E andiamo subito a vedere qual è questa rosa In porta Tra i pali Nell'area piccola A difendere i nostri rossi Usate qualcosa Qualc'altra Casillas Poi partiamo da destra Da destra verso sinistra Parte da sinistra verso destra Moreno Pique Alpion De Marcos E poi il più forte Arteta Invenibile Ciccise Fabregas Cesc Grandissimo Mata C.O.C. Hernandez Xavi Dietro a Rodrigo e Diego Costa Si può partire con la nostra cazzo di squadra Inizionata a squadra Ah Iniesta c'ha Grande Porca Valero Sergio Ramos Ah c'ha disco pure Va bene Si parte contro i Daxers Arteta 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 Illuminanti Arteta Oddio Arteta Si gira Arteta 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 Niquel Arteta Di fare qualcosa Diego Costa Perché è qualcosa di impressionante E' il ballo della costa 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 Fabrega Quest'esca Cambia Metticciata No 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 Si è messo bene Ora si è messo bene Otti Tira Quadrato Non ho realizzato Non ho realizzato un tempo Mamma mia qua ci sta il tiro buggato Caccola Perché qua il portiere la para male E dovrebbe entrare Oppure fai così Aspetta E Ti levi dal cazzo Mi hai guardato Mi hai contrastato tu E' andato da solo il gioco No mi hai contrastato tu Non l'ho toccato Non fa niente Ho lasciato il joystick Sii Boom Il gol de la merda GDM per noi Siamo nei pezzi di merda Lo sappiamo Però dobbiamo segnare Perché Di Max l'ha detto Che ti abbalga Oh Ma che cazzo di cosa ho fatto Tam vedi Finisce Finisce Si passa Mo cambiamo squadra Perché questa fa schifo Cambiamo modulo Cambiamo squadra Dai Allora abbiamo fatto un po' di variazioni Intanto vediamo la sua squadra Carina E abbiamo fatto un po' di variazioni Abbiamo cambiato il modulo Perché erano troppo lenti Quindi abbiamo messo due ali Abbiamo messo Pedro E Dinofeu Comunque Abbiamo messo A modo spostato Mata C.O.C.C.C. Che tra l'altro c'è anche C.C. Però no se C.O.C. Vabbè possiamo cambiare Infatti Cambieremo Se ci arriviamo alla prossima Cambiamo Se ci arriviamo Cambiamo In testa Che va più così Porca puttana Cuore gioco spero No Mamma mia Che odio Mamma mia Che cosci Che cosci Abbasso Se ci riesci Non ci riesci Non fa niente Oddio Che cosci Mamma mia Che fabbricas Di testa di fabbricas SESC Mamma mia Che fenomeno Regà Cioè Fabbricas E' veramente Una leggera Che cosci Deco che merda Mortacci tua Vai che è tua Vai che è tua Vai che segni Cocco Eh rigore Rigore Sì Dai Rigore Rigore Ma che si è inventato Fermate Porco due Perché soi caliente Perché c'èmo carvacal Porco due SESC SESC Tiro di merda Fuori No la parrata Sì Tira Cazzo aspetti Sancito Sancito Meno male Cazzo Meme Se lo stavo a cagare Se lo stava Gol sbagliato Gol fatto Piqué Piqué Gran bomber Mi sopposto tutto da solo Fa tutto da solo No dai Io non capisco Perché Cazzo c'ha Ma è sempre Ragato BOOM Ma era scritto Cioè era scontato Proprio Guarda ha fatto Un tiro sotto Bravo Questo volevo io Questo volevo Perché tira Ciavie Ciavie E la rete 3 a 1 Si vola Il semifinale E questo Po' vuole piacere a me Che fanno così Capito No Che fai Aga No Non lo farei Fatto un po' Vole Sgame Proprietore Allora Sì Sì Guarda Questo call Era scontato Quanto Non lo so Quanto Il Big King Il Burger King Sì giorni Non si fa Quei spalle Nessuno E finisce Qui E se l'uomo Cartellino Giallo Inutile Finisce No Se non era per me Che carriavo Sì Non è Totti È Diego Costa Semifinale Subito Semifinale Hai detto la bestemmia Adesso è più forte Scusa Beh adesso è più forte Sicuramente è più forte Anche Castellini Di Pelè Cioè Invenza al cazzo Ma vaffanculo Ma si voglio vedere Che costa 40 anni Quanto è forte Dai Ciao Su Prossima partita Vai 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 Si comincia Vai 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 sto a mettere, mamma mia facciamo? ti manca vai potete capire la faccia che ha fatto lo facciamo, vai 2 a 0 si vola in finale io t'ho visto che lo stavi a fa' non lo faccio a farci sotto, volevo tirare la bomba sul secondo palo grazie da tutta la traversa mamma mia si va in finale dai dai numeri, numeri su numeri tira però, è la rete non puoi perdere palla la eh, battono 5 e basta vedi, battono Ringo, guarda il gomito guarda il gomito non potete sbagliare se puoi guardare il gomito allora vi insegniamo questo trucco, se voi se non volete mai filare un 5, dovete guardare il gomito del vostro compagno si che è veramente brutto filare un 5 credibile questo non se ne va più ecca la 5 a 1 era torosidis quello però intanto guarda che questo va a finire male eh no qua è male guardate eh va bene così grande è una bomba che è grande no capello va bene 6 a 2 il bomber fa brega non sei buono sei un coglione tanto non sei sei un coglione sei un coglione oh ops è fuori gioco per favore siamo riusciti a fare una partita che stiamo dominando siamo riusciti a perdere soltanto dei due cioè vincere soltanto dei due che finisce qui ci va in finale per la prima volta 6 a 4 rega non c'ho parole dai dai subito con questa finale adesso comincerà l'epicità eccoci qua siamo in in semifinale in finale se vedete che le squadre sono diverse è perchè dopo la semifinale si è buggato giuriamo che non abbiamo perso si è buggato si è buggato ho rigiocato io le due partite al volo questo se n'è andato prima questo l'ho battuto 2 a 0 in verità e poi questa qui è quella del 6 a 4 quindi adesso siamo in finale dai e così oh vai adesso eccoci qua eccoci qua ragazzo cuocare il telefono aspetta un po' ah ci sta dando il signo per favore ci sta vai vai eccola la finale si comincia papapapam via via porco cane porco tutto perchè non l'hai passato al 5 con Diego Costa ma per favore abbiamo fatto segno a Diego Capelle cioè è uno che si chiama ma sto Capelle è così buggato che ce l'hanno tutti ci vattene perchè non entra così vai vai entra boom boom si si cazzo gare in azione dai portacci tua aggiungo dai ecco costa che tiro di merda ahahah porco tu vai vai è il caso è il caso di uuuu pezzo di merda vai 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 che cosa stai facendo uuuu mi ha spaffo al culo no mi ha mandato lungo una volta ti mette nessuno più oh festeggiano tutti la coppa si avvicina che si chiama pietro oh so da solo eh ti è a me dai tempo di dattela coglioni oh no queste su tazze sono veramente brutte rega c'è corda dite tutti quanti insieme a me corda sentite che fate corda guarda corda di corda vai eh il passaggio no passaggio vieno porca puttana ci sta nessuno non tira le gommata la corde non tira gommata lascia il vetro ora posso? si ora si ora pure eh dai rimettiamola qui al sicuro su porca puttana rimettiamo la chiesa al centro del villaggio e oh 4 a 3 eh olè come il burro come il burro campioni campioni incredibile fantastico si vince andiamo subito a scartare questo pacchetto ci stavo da io stavo a vincere la gloria i festeggiamenti siamo noi siamo noi i campioni della spagna siamo noi tu attenzione subito la botta perfetta sarebbe tipo adesso un Cristiano Ronaldo o un Leo Messi vai 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 ecco il pacchetto pacchetto oh bello Tomizzi Maxi Morales Pabbon ragazzi se vi è piaciuto questo video vi lasciamo 5000 like noi ci becchiamo al prossimo video ci sarà un'altra nazionale si spera la faremo perciò perciò bella ciao